In casa, in diretta dal comunale, per noi c'è, come al solito, il maledetto Spiga. Bella zio! Allora, oggi abbiamo giocato contro l'Andriano, giusto? Giusto, giusto. Appena tornato. Abbiamo vinto 1-0, ve lo diciamo subito. Il migliore in campo di oggi? Ebbene sì, doppietta per lui. Non in campo, ma migliore in campo. Busterino-Mantia-Stefano. Amantino-Mantia. Il titolo più ambito della stagione. Doppietta di migliore in campo. Oggi vittoria importantissima, con il rigore guadagnato da me, ma non l'ho battuto, perché Baraldo, io sono un uomo sello, e voglio fare 15 gol su azione. Solo per te, solo su azione. Baraldo deve preparare la pizza. Prepara, prepara il pizzone, che siamo pronti. Scommesso. La settimana prossima andiamo a rompere il culo al Giussago. Domenica prossima c'è il Giussago in casa. Ricordiamo live. Oggi abbiamo superato il Giussago. Abbiamo superato il Giussago. Prima in classifica. Un punto davanti. Ufficiale, prima in classifica. Grazie ragazzi. Buona settimana Stefano. C'è un migliore in serata. Chi è migliore in serata di oggi? Il ciuffo del maledetto Spiga. Esatto. Incredibile. Purtroppo oggi mi tocca e avevo promesso che non mi sarei bagnato i capelli. Ma per colpa di ciccio. Per colpa di ciccio marino mi sono dovuto scaldare. Mi sono bagnato i capelli, guarda che roba. Cocktail preferito per il maledetto? Cocktail preferito. Long Island senza coca con sambuca. Ah, incredibile. Facile. Con questa vi salutiamo. E' la settimana prossima, bastardoni. Ci vediamo alle tre e mezza comunale. Tre e mezza comunale, tutti presenti. Vogliamo una bolgia. Zibido Giussago. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.